Brando e Raffaella di Uomini e Donne sono in vacanza insieme. Il tenero gesto d'amore di lui che ha fatto impazzire i fan Una delle coppie più seguite del momento sui social è sicuramente quella formata da Brando e Fricchian e Raffaella Squotto I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e da quando sono usciti dalla trasmissione fanno coppia fissa e fanno sognare i fan Tutto sembra procedere bene fra Brando e Raffaella, che trascorrono tanto tempo insieme nonostante la relazione a distanza Ora si sono concessi una vacanza a Sharm el Sheikh e stanno postando storie e post che non fanno che testimoniare quanto siano felici e innamorati Brando e Raffaella di Uomini e Donne in vacanza a Sharm el Sheikh. Il gesto d'amore di lui Brando e Raffaella sono in vacanza insieme a Sharm el Sheikh e, nelle scorse ore, hanno postato diverse foto in questo posto paradisiaco fra mare, piscina e relax Ai fan non è passato inosservato un video davvero dolce in cui Brando pettina i capelli alla sua bella Raffaella La napoletana ha una lunga chioma di capelli scuri, che si è leggermente schiarita e che il sole sta illuminando ulteriormente Lei, seduta in braccio a lui, si lascia coccolare mentre la pettina La giovane ha postato questo video scrivendo, little moments, e in sottofondo c'è la canzone di Pino Daniele, resta, resta cum I fan sono impazziti guardando questa scenetta, sono felici di vedere una coppia così vera e innamorata e, soprattutto, grati a Raffaella che posta contenuti che fanno conoscere lati diversi di Brando Per molti, lui sarebbe parso un ragazzino un po' immaturo, ma ora lo stanno tutti rivalutando anche grazie a Raffaella, che fa emergere lati di lui davvero dolci e bellissimi Anche chi non scommetteva nulla su questa coppia si è dovuto ricredere. Sono giovani, felici e innamorati Purtroppo Brando, che è a Sharm el Sheikh in vacanza con Raffaella anche per festeggiare il suo compleanno, sta poco bene Anche in questa occasione, nonostante la vacanza non stia andando nel migliore dei modi, Raffaella è sempre accanto a lui per sostenerlo e fargli compagnia in camera, dato che non può uscire a festeggiare Infatti, in un'altra storia postata da Brando, Raffaella è entrata in stanza con una torta Il ragazzo ha accompagnato il video con scritto, o così o niente Se non è amore questo, nonostante Brando stia poco bene, i due stanno trascorrendo dei giorni insieme e sono più uniti che mai e questo è l'importante Grazie